Doveva essere una tranquilla conferenza stampa per parlare di argomenti scolastici, un incontro di routine da consumarsi in pochi minuti e senza clamore. Ma è bastata una frase, sindaco cosa ci dice sul palacongressi a scaldare gli animi? Una provocazione o un semplice chiarimento chiesto da un giornalista e in un attimo l'atmosfera si è fatta di fuoco. Gaspari ha cominciato a inveire contro i rappresentanti del Corriere Adriatico, il motivo? I cronisti nell'edizione di oggi hanno scritto che la procura avrebbe chiesto al GIP il sequestro del cantiere del palacongressi, comunemente denominato il panettone. Una notizia che, fondata a Ominino, ha sollevato un polverone e costretto l'aggiunta ad una doccia fredda. Ancora incerte le motivazioni alla base degli eventuali sigilli, va però ricordato che la procura nel marzo 2006 aveva avviato un'inchiesta sul project financing del palacongressi e la Publiode, una società alla guida di altre grosse sale cinematografiche della zona, aveva presentato un ricorso al Tar. Al di là delle motivazioni alla base del possibile stop ai lavori, peraltro mai arrivato visto che la società palacongressi e SRL continui ai lavori, l'irra di Gaspari è apparsa funesta e feroce. Qui c'è gente che si diventa a dispare. E qualcuno dovrà dire perché questa volontà di lavorare contro la città lavorassero contro di me. Perché San Benedetto che gli ha fatto lavorassero contro la giunta, lavorassero contro Gaspari. No contro San Benedetto. Parole poi argomentate dal primo cittadino che ha ammesso, come siano attualmente in forse, due congressi di portata nazionale che si sarebbero dovuti svolgere a San Benedetto, proprio al palacongressi. Il primo ad ottobre avrebbe discusso di fisioterapia, il secondo a marzo avrebbe avuto risvolti politici con la Convention Nazionale di Rifondazione Comunista. Due appuntamenti che rischiano di saltare e per cui, ironicamente, Gaspari ringrazia la stampa. Probabilmente, quasi certamente, non li avremo più. Quindi grazie. Mentre si consumava il Gaspari show, si aggirava per le stanze municipali anche l'ex vice sindaco Pasqualino Piunti, che ha subito stigmatizzato l'atteggiamento del sindaco. Rimango sbalordito di fronte a una reazione così inaspettata, per certi versi anche violente, nei confronti della stampa locale, a parte del primo cittadino. Io oggi ho assistito a una velata minaccia, non tanto velata, e ha un discorso, secondo me, liberticida, laddove, quando la stampa parla a favore dell'amministrazione, sono tutti bravi e tutti grandi professionisti. Quando invece si permette di dare notizie che non sono gradite a queste amministrazioni, a questo punto la stampa fa del mare a San Metto del Trondon. Insomma, il panettone resta indigesto all'Aggiunta Gaspari, che è costretta a mandar giù l'ennesimo boccone amaro e potrebbe non essere l'ultimo, a seguito del sequestro potrebbero infatti arrivare anche avvisi di garanzia.